Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese, con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TanZero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò. Il Podcast Voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni di più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi. Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. I criminali non vanno romanticizzati. Non sono materiale da film. Perché quell'aspetto narrativo, per quanto emozionante, ben fatto, sarà sempre distante dalla realtà. Al punto da arrivare a infastidire i diretti interessati prima o poi. Soprattutto quelli che non si sono pentiti. Quelli fieri di quello che sono. Quelli che il mestiere lo fanno per soldi ma fino a un certo punto. I cosiddetti banditi. Non criminali qualunque. Gente che si identifica in un certo movimento. Che non è sociale o politico o altro. È uno stile di vita. Un'attitudine. Non chiamatelo nero. Non chiamatelo samurai. Ma non chiamatelo proprio. Lui non ama essere al centro. Anche se da una vita la cronaca ne parla ampiamente. Chi nasce dall'ideale. Sia discutibile o meno. Chi cresce in un'Italia che non è quella di oggi. Ma che in pochi anni passa attraverso fatti che sono indiscutibilmente già storia del paese. Chi li vive da protagonista. Che sia vero o falso. Passa alla storia. Come l'anello mancante tra l'etica morale e il caos. Un volto. Un nome. Che porta dietro sé la consapevolezza di aver vissuto cose che nessuno saprà mai. Terra di mezzo. Mafia capitale. Banda della Magliana. Anni di piombo. Strage di Bologna. Nuclei armati rivoluzionari. L'imputato è sempre lui. E alla fine viene quasi sempre addirittura assolto. In due parole. Massimo Carminati. E alla fine viene fuori. Senti, ascolta a me, io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sono a me, Massimo Carminati, segnatelo, capito? Segnatelo, io sono quello che abita là. Prima di arrivare un attimo alla storia di questo personaggio, che è uno dei più affascinanti sicuramente da raccontare, perché comunque attraverso più fasi della storia dell'Italia moderna, io voglio soffermarmi su un aspetto, ovvero perché continuare? Cioè, se un personaggio come lui inizia, ormai veramente 40 anni fa, inizia e lentamente fa vari reati, varie cose, è imputtato qui, è imputtato là, schioppava 10 banche al mese e quindi comunque non c'è un motivo solo economico che ti muove a fare questo mestiere, perché la gente si alza, va al lavoro, perché comunque vuole guadagnare e portare a casa la pagnotta. Massimo Carminati, io non credo che abbia questa esigenza. Ecco, dopo il furto dei cavò, ne parleremo in seguito, Io credo che un bandito possa fermarsi, hai già dato, hai fatto più di quanto veramente si possa fare in una vita intera, il tuo nome è legato in maniera indissolubile a Roma, ai vertici di Roma, alla storia della Roma criminale, perché continuare? E' proprio questo il concetto che poi ha portato, diciamo, Massimo Carminati nuovamente alla ribalta della cronaca, mafia capitale, questa grande indagine, che poi lui rischia, adesso è nuovamente libero, per modo di dire, perché comunque libertà vigilata eccetera, però rischia tanto. Parliamo di un personaggio che il figlio l'ha visto spesso dal vetro del 41 bis, perché mi domando, a un certo punto, quando quel 2010-2011, era libero, davvero libero, continuare a fare il mestiere? Perché se perdi un colpo in questo ambiente, in un attimo diventi nessuno. Quindi se il nome Massimo Carminati, basta sbloccare appalti che per mesi sono fermi, perché la gente ha paura, soprattutto in certi ambienti, un po' più in, quelli della famosa terra di mezzo, quelli che stanno però dall'altro lato, i criminali legalizzati, quelli dello Stato, lì il nome Massimo Carminati è veramente, come dire, il demonio. Mentre invece lui dice, questo lo dico io, perché io non credo sia così, però lui dice che comunque, nell'ambiente della malavita romana, non è che il nome Massimo Carminati ha questa rilevanza che ha nell'ambiente. Cioè lui dice, non sono una mammoletta, non sono l'ultimo arrivato, però non sono neanche il re di Roma. Questo è il concetto. Questo l'avete detto voi, romanticizzando la mia figura. Mi rompevano tutti le palle con sto nero di romanzo criminale, con samurai, con tutte queste cose. Mi prendevano per il culo per questa cosa. Scusi Presidente, ogni tanto qualche parolaccia la dovrò dire, perché mi ricordo lo slam stradale, allora... Un rebolla giustamente mi prendeva in giro. Quando è arrivato c'è il nero di romanzo criminale, con la detta delle cose, ma chi c'è scamarcio? E questo suo, diciamo, mettersi fuori dalla leggenda, che mi affascina, e che mi porta a voler indagare. Perché lui, questo mestiere, continua a farlo in quanto sa farlo più di chiunque altro. Perché lui non parla con lo Stato. Perché lo Stato ha tentato di ucciderlo. Perché un bandito è un bandito, e lui è forse l'ultimo vero bandito rimasto, in quanto quella mentalità nell'epoca di oggi si è molto perduta. Oggi i criminali non hanno più un'etica morale. Mentre lui, dei valori li ha. Discutibili, spreggevoli, disumani. Ma una logica la segue. E questa logica è alla base di quest'ultimo processo mafia-capitale. Ma alla base è un po' di tutta la sua carriera. E adesso andiamo a ripercorrerla. Come cani hanno ferito a me e un certo graniti sulla macchina, sono stati trovati 145 colpi. A me mi hanno colpito in faccia, io stavo seduto dietro questa Renault. Non è che mi hanno detto scendi dalla macchina. Ci hanno sparato e basta. Io non mi sono costituito neanche parte civile contro gli agenti della Digos che hanno sparato. Perché erano altri tempi. Io ho dato legittimità a questo fatto. A quanto pare la guerra con il mondo non è finita, avvocato. Come vede, io sto al 41 e fuori c'è il mondo che ce l'ha con me. Però non mi interessa, io posso stare solo contro tutti. A me non mi fa paura nulla. Quando c'è l'errore in mala fede, non me sta bene. Non me sta bene a me proprio come Massimo Carminati. Quando uno mi vuole fregare, posti, Presidente, non si deve far beccare. Sono un ragazzo sportivo, diciamo, come si dice a Roma. Sono sportivo, però vorrei essere trattato come imputato, come vengono trattati tutti gli altri. Perché è il mio diritto. Perché io posso fare quello che sta da questa parte della barricata. Perché io sono un bandito, sono un imputato. Voi non lo potete fare. Voi non lo potete fare. Nasce a Milano, poi si trasferisce a Roma con la famiglia negli anni 60 e subito inizia a frequentare i movimenti MSI e il FAUN nel quartiere Nomentano. Milita per qualche tempo in avanguardia nazionale e inizia subito a partecipare nelle manifestazioni di piazza, gli scontri, durante i cosiddetti anni di piombo. Così inizia subito a prendere prestigio nelle strade, come picchiatore, come un duro, negli ambienti dell'estrema destra romana, in modo particolare. La fama cresce e riceve varie denunce per aggressione, per reati, violenza, rissa. In seguito dirà facevamo cose assurde, rischiavamo la vita, la libertà. Cioè magari rischiavamo di prenderci 30 anni per nulla, per un concetto ideale. Questa, signore e signori, si chiama gavetta. E non la fai casualmente. La fai perché senti di doverla fare. La fai perché in quel momento, mentre tu rischi 30 anni di galera lanciando qualcosa, picchiando qualcuno, lo fai per te stesso. Perché senti di doverlo fare, perché vuoi vivere quel brivido, perché credi che sia la cosa giusta per te e per la società, anche se quella cosa giusta non è. E qui la differenza tra il bandito e il criminale. Perché il bandito poi lo inizia a fare per denaro. Più si alza la posta in palio, più si rischia e più l'emozione è forte. Ma l'aspetto economico è solo parte dell'insieme. Il Carminati, in quegli anni, fa quello che fa perché deve farlo. E qui la differenza, dirà poi l'accattone della banda e la magliana. Noi facevamo quello che facevamo perché volevamo uscire dalla merda, volevamo guadagnare, volevamo toglierci gli sfizi. E quindi hanno fatto questi della magliana le peggio porcate. Una banda di sanguinari li definirà Carminati. Ma diciamo che partono come gruppo che fa quello che fa per una matrice puramente economica. Poi si estende, la cosa sfugge di mano. Mentre dice Mancini su Carminati. Lui è un criminale puro perché lui non è che aveva bisogno di mangiare. Lui lo faceva perché quello che faceva lo rendeva quello che era. E quello che è ancora oggi. Sapendo bene che non l'avrebbero pagato, tutti quanti sono dei truffatori. Cioè questo è il mio modo di pensare rispetto al Comune di Roma, rispetto a Alemanno, rispetto a tutti quanti. Presidente, questa è la prova, mi deve credere. È la prova che io non conosco il sindaco Alemanno e che io non conosco Lucarelli perché sennò sarei andato a buttargli giù la porta a calci. Io rimanevo appasito, io venivo da un mondo diverso. Io quando mi sono avvicinato a questa cosa non mi rendevo conto che potessero succedere queste cose. Cioè io vengo da un mondo in cui siamo tutti molto più onesti. Cioè un'onestà chiaramente al livello più basso che possa esistere. Però c'è onestà. Cioè noi non è che abbiamo dieci comandamenti, ce ne avremo tre. Però quei tre che ci stanno, dei comandamenti, noi li rispettiamo. L'unica indegalità era quella della mia condizione in cui dovevo nascondere i miei proventi. Anche se fossero legali. Se io non avessi avuto sulle spalle contro la parte civile che voleva 20 miliardi io mi sarei aperto partita IVA e tutte queste cose sarebbero ufficiali. E ci avrei anche pagato le tasse, avvocato. Quindi la gavetta Massimo Carminati la fa all'interno degli ambienti dell'estrema destra. I cosiddetti giovani dell'euro ai tempi. Anche al romanzo criminale, no? Si gioca con questo discorso dei gruppetti dell'euro quando il libanese va a caccia di chi ha fatto il colpo al santo spirito. Non so se ricordate, tutti a caccia di questo nero. Bene, comunque il fatto che ispira il romanzo e la narrazione è questo. Quindi è Carminati ai suoi esordi. Infatti, pur partecipando marginalmente agli scontri, Carminati gode di un grande prestigio in quell'ambiente. Sia di destra e di sinistra, proprio in quello degli estremisti. Perché? Perché lui già ai tempi aveva contatti diretti con quella che era la banda della Magliana che stava nascendo. Quindi lui un po' si è costruito la fama da picchiatore, un po' gli ideali e via le piazze, i primi colpi e tutto quanto. I contatti con la banda della Magliana, Massimo Carminati ha malapena vent'anni ed è già uno dei membri di spicco della criminalità romana. Io non so quanto guadagnava con la sua attività criminosa ai tempi. Ma visti i risultati già raggiunti, praticamente una persona arrivata a questo punto con un po' di buonsenso si ferma e dice Ok, basta così, ho fatto il mio, riparto, metto su famiglia, una vita fatta bene, in passato sono stato quello che sono stato, ma già sono stato qualcuno di grande. No, se uno deve sfamare la sete di rivalsa, ma non è semplice rivalsa quella che muove Carminati. E' questo il punto cardine. Lui viene definito da Valerio Fioravanti, che è un suo compagno di classe, di scuola, non so se andavano in classe insieme, Comunque uno dei compagni con cui inizia, diciamo, a recarsi in certi ambienti, lo considera uno che non voleva porsi limiti nella sua vita spericolata, pronto a sequestrare, uccidere, rapinare, partecipare a giri di droga scommesse, usura. Sulla droga Carminati non è d'accordo, Carminati dice che ha fatto tutto quello che c'era da fare, ma la droga l'ha sempre schifata. Qualcuno dice che non è così, però pare che lui, insomma, per una questione morale, dice E' più probabile che la droga sia nelle tasche di chi mi cerca che in chi mi trova, insomma, cioè quindi nelle mie tasche droga non c'è, perché comunque moralmente è sempre stato contrario. Preferiva rapinare banche, dice se avessi deciso di fare lo spacciatore nella vita probabilmente non avrebbero mai acchiappato e a quest'ora ero ricco e non ci sarebbero stati questi problemi. Invece lui dice di aver scelto altre strade e non mi sembra così difficile da credere, può essere tutto. Dobbiamo stare attenti tra la verità, quello che dicono gli altri, le sue testimonianze, che poi non è neanche importante risalire alla verità. E' importante un attimo capire perché e che cosa deriva da questa verità. Ma soprattutto il discorso molto più semplice e riassunto è che Carminati, alla fine dei conti, è un elemento perfetto per entrare nei nuclei armati rivoluzionari, in arre, che intendono appunto seguirlo, coinvolgerlo in molte azioni, utilizzarlo come intermediario nella malavita romana. Insomma, lui aveva già, come ho detto, un certo prestigio e una certa amicizia con Er Negro, che non è nient'altro che il fondatore della banda della Magliana nel romanzo Il Libanese, che dopo un periodo di amicizia, loro si frequentavano in Via Enrico Fermi, in quei bar lì, anche Er Negro era molto simpatizzante, diciamo, degli ideali della destra. Dopo quindi un periodo di amicizia, l'entrata in affari con lui da parte di Carminati avviene per riciclare il denaro di determinate rapine. Quindi praticamente Carminati diventa il tramite, grazie ad Ali Brandi e Giuseppucci, quest'ultimo appunto il fondatore della banda della Magliana, Er Negro, diventa il tramite per ripulire a Roma il denaro sporco. Massimo Carminati ha circa 20-21 anni all'epoca dei fatti, ha ancora entrambi gli occhi e mi sento di poter dire che siamo alla fase di chiusura di quella che possiamo chiamare la gavetta, di cui abbiamo parlato in questo primo episodio. La prima vita di Massimo Carminati, un po' l'adolescenza, se vogliamo, tanti sono i fatti che sembra già di essere alla fine, e invece vi assicuro che siamo solo all'inizio. Poi vediamo, infatti hai visto sull'ultimo articolo dell'Espresso sempre a Pato, che ha riportato il trapiletto, lui e Senese si sono spartiti a Roma, perché se siamo spartiti a Roma? Perché se siamo spartiti a Roma? Ma che cazzo me ne frega a me di Roma? Che cosa compro e vendo io che mi spartisco, capito? A me se uno mi viene a cagare qui vicino, beh, mi sposto, ma che me ne importa a me? Perché sono quelle cose deliranti loro, che gli piace a loro, no capito? Roma diviso in quattro quadranti, queste puttanate, queste minchiate.